Buon pomeriggio, buonasera a tutti, benvenuti all'interno di Palazzo Branda Castiglioni, nel nostro portico e giardino interno. Benvenuti a questa conferenza da parte dell'amministrazione comunale di Palazzo Castiglione-Lona, del Museo della Policciata, insieme abbiamo voluto organizzare questo evento. E grazie alla città di Castiglione-Doccia, al sindaco, alla storica dell'arte Irene Sbrilli e Valentina Pierguidi che gestisce il Museo della Vecchietta a Castiglione-Doccia per essere qui con noi oggi. Siamo nel secondo weekend del Palio dei Castelli. Quest'anno Castiglione-Lona celebra il sesto centenario della fondazione della Chiesa della Collegiata e dell'impero della nascita dell'intero borgo di Castiglione-Lona. Il Carina Branda Castiglioni, che è la figura più importante che noi abbiamo avuto a Castiglione-Lona, ha trasformato l'antica cittadella medievale in quella che è la prima città ideale dell'umanesimo. È stata una figura importantissima non solo per Castiglione-Lona, ma per l'Italia e l'Europa. Durante i suoi viaggi conosce altri diversi e li porta a Castiglione-Lona. Tra questi c'è Lorenzo Di Pietro, detto in vecchietta. Per questo abbiamo organizzato oggi questa conferenza, perché Lorenzo Di Pietro e Vecchietta lavora qui, ma soprattutto nel territorio senese a Siena e a Castiglione-Lona. E quindi ci sembrava bello organizzare questa sorta di gemellaggio, questa collaborazione con Castiglione-Lona. Con il sesto centenario c'è la rinascita di Castiglione-Lona e, dicevo, siamo nel secondo weekend di Palio. Quest'anno la Proloco ha scelto come tema storico la rinascita di Castiglione-Lona, quindi Castiglione che rinasce come città ideale dell'umanesimo e Castiglione che rinasce dopo il periodo della pandemia. Quindi vi invichiamo poi tutti a tornare domani, che sarà la giornata conclusiva del Palio dei Castelli, se non l'evento più importante che abbiamo a Castiglione-Lona. Adesso lascio la parola a Paolo Guerra, il Vice Sindaco, per i saluti istituzionali. Grazie Cristina. Innanzitutto vi porto i saluti del Sindaco Giancarlo Frigieri, che come alcuni di voi sanno non può essere qui per motivi personali. Ci avrebbe molto tenuto, mi ha chiamato qualche minuto fa, mi ha detto veramente di salutarvi, di salutare gli ospiti e di darvi il benvenuto. Io ho appena conosciuto Claudio e gli altri componenti di Castiglione d'Orcia e ci è scattato subito un feeling, non so, c'è qualcosa che ci accomuna. Quindi si è iniziato già subito a parlare di possibili eventi futuri e possibili collaborazioni che sicuramente ci dovranno essere. Io non sono mai stato personalmente a Castiglione d'Orcia, quindi mi impegno e impegno tutta la nostra amministrazione a programmare una visita, una gita. Come dicevo prima Claudio, visto che anche loro fanno qualche evento enogastronomico, calici di sterli, mi sembra, in agosto, quindi potrebbe essere l'occasione, però se no in autunno. Quindi per noi veramente sarebbe un piacere venire. Ringrazio poi gli uffici, l'Ufficio Cultura, per aver organizzato questo evento. Cristina Canziani, poi il Sessore, quindi lei ha avuto l'idea. Conoscendo Valentina, che lì si sono trovato. Io passo, non mi ruvo più tempo, passo la parola a Roberto Cristofoletti, del Presidente del Proloco, che vi spiegherà due cose anche sulle manifestazioni che c'è questo weekend sul Paglio. Quindi vi saluto e vi auguro una buonasera. Grazie Roberto, abbiamo deciso di comune accordo di mettere oggi la maglia del cinquantesimo di Proloco Castiglionola, perché oltre al sesto centenario quest'anno Proloco festeggia i 50 anni, per cui in omaggio al Paglio, alla Proloco e ai festeggiamenti castiglionesi abbiamo deciso di mettere tutti questa maglietta. Lascio la parola al Presidente di Proloco. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti. Grazie all'amministrazione comunale che ha voluto organizzare insieme all'amministrazione di Castiglionola e Dorcia questo bellissimo momento, un momento importante perché quest'anno soprattutto, in cui si festeggiano i cinquant'anni della Proloco e i 600 anni della rinascita di Castiglionola, il Paglio festeggia questo momento ed è bello avere qui con noi i rappresentanti di un borgo che ha un mimo con un denominatore che è Berchierca, quindi grazie per essere qui. Vi invito ovviamente a venire a trovarci e a vivere queste giornate di Paglio, soprattutto domani il giorno del Paglio dei Castelli, 45esima edizione. Incominceremo alle 16.30 con un corteo che ci porterà a Castelli Montemuzzo dove ci saranno tutti questi festeggiamenti, finiremo con la gara delle lotti, con i fuochi d'artificio, ovviamente tutti gli spettacoli legati alla rappresentazione storica e al ricordo dei 600 anni, come diceva Cristina e Paolo. Quindi grazie a tutti quanti per essere qui stasera e buon pari a tutti e benvenuti i rappresentanti. Grazie. Grazie.